Tudor Ranger, un orologio elegante e funzionale ispirato agli esploratori Se sei alla ricerca di un orologio che sia al tempo stesso elegante e funzionale, il Ranger è il modello che fa per te. Il Ranger è un orologio che si ispira alla tradizione degli esploratori del passato, ma che offre delle caratteristiche moderne e versatili. Il suo nome richiama i Ranger, i guardiani dei parchi nazionali americani, che hanno sempre incarnato lo spirito di esplorazione e di rispetto per la natura. Il Ranger è stato introdotto negli anni Sessanta, come una versione più semplice e accessibile del Rolex Explorer, un orologio indossato da Sir Edmund Hillary, Tenzing Norgay e Sir John Hunt nella loro storica scalata dell'Everest nel 1953. Il Ranger ha mantenuto lo stesso design essenziale e robusto del Rolex Explorer, ma con alcune differenze, come il logo Tudor, una rosa stilizzata, che simboleggia l'origine nobiliare della marca. Il nome Tudor deriva infatti dalla dinastia inglese che ha regnato dal 1485 al 1603, e che ha dato origine a sovrani come Enrico VIII ed Elisabetta I. Il Ranger è stato rilanciato nel 2014, come parte della collezione Heritage di Tudor, che rende omaggio ai modelli storici della marca. Il Ranger ha conservato le linee e i colori del modello originale, ma con alcune migliorie e aggiornamenti. Il Ranger ha una cassa più grande, di 41 mm, rispetto ai 34 mm del modello originale. Il Ranger ha anche un movimento più moderno, il calibro Tudor 2824, che ha una frequenza di 28.800 alternanze all'ora e una riserva di carica di 38 ore. Il Ranger ha anche una maggiore resistenza all'acqua, fino a 150 metri di profondità. Il Ranger è un orologio che si distingue per il suo design robusto e senza tempo. La cassa solida, spesso realizzata in acciaio inossidabile o materiali simili, conferisce al modello una durata eccezionale. Gli indici marcati e le accette luminescenti non solo aggiungono stile, ma assicurano anche una leggibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il Ranger offre una varietà di opzioni di cinturino, tra cui l'acciaio inossidabile, la pelle, il tessuto e il cauccio. Il Ranger è un orologio che rappresenta la perfetta fusione tra eleganza e funzionalità. Indossare un Ranger significa portare con sé un pezzo di storia e tradizione, arricchito dalla qualità e dall'innovazione.